Orange is the New Black All'inizio una serie molto intrigante, le prime tre stagioni, poi c'è un calo assurdo e dico la verità non sono riuscito a finirla, sono arrivato alla sesta e mi sono rotto le balle e non ho più continuato a guardarla Allora, per le prime stagioni la consiglio, poi onestamente no, la diluiscono troppo